Non vogliono passarelle, vogliono solo fatti concreti, subito, il tempo dell'attese è finito. Il porto di Gela deve essere fruibile immediatamente. C'è un accordo siglato tra Regione e Comune e Deni lo scorso 27 settembre, cioè dire quasi sei mesi addietro, che prevede il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205.000 metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto di Fugio con piantumazione di essenze arbore ed un intervento di protezione dell'aria attraverso l'amplimento ed il rafforzamento del pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5.880.000 euro. Tutto su carta perché al momento è accaduto nulla. E questa mattina il Consiglio Comunale monotematico sulla vicenda. Noi abbiamo interpretato essere quella di avere un porto funzionante con la risoluzione dei problemi che da decenni conosciamo, di un insabbiamento perenne e sicuramente non siamo interessati a quelli che sono interventi estemporanei di cui si può fare carico qualsiasi altra istituzione che non sia questo comune. E questi lavori al porto quando partiranno? Siamo in attesa che la protezione civile regionale ci comunichi quando deciderà di fare questa caratterizzazione per poi dare via al progetto di dragaggio. Visto l'andazzo sembra l'ennesima passerella politica per qualcuno a discapito sulle spalle più che altro dei lavoratori e di tutto ciò che gira attorno all'economia del porto rifugio. L'impressione è questa, staremo a vedere. Ma voi come fate ad operare considerato che il porto rifugio è inagibile? Noi non stiamo operando, forse qualcuno scappa che noi è più di un anno che non usciamo e qui ancora si fanno passere le politiche sulle spalle delle famiglie che non lavorano più e non mangiano. Forse qualcuno a vario titolo, a tutte le istituzioni, alla regione, a livello locale non è entrato bene in sintonia con questa definizione e giocano al fantacalcio ancora non sappiamo a che gioco stanno giocando. Ma voi siete dati una chiave di spiegazione del motivo per il quale ancora i lavori non partono? Sì, io me lo sono dato ed è una motivazione politica. Siamo in attesa della campagna elettorale quindi non sanno cosa fare, a chi promettere e a chi dare ma la cosa più grave è che a Gela i lavori non partono mai mentre in altre zone della nostra regione Sicilia partono. Abbiamo sempre chiesto di portare a conoscenza tutto quello che è successo e vogliamo che finalmente si realizzi quello che noi vogliamo, un porto per la città di Gela. Anche perché è il paradosso dei paradossi, avere una città di mare con un porto non fruibile. Una città di mare senza porto è come un cielo senza stella alla fine. E come siete andati avanti in questi anni considerato che appunto il porto è interdetto? Ma noi non siamo andati avanti, noi ci siamo fermati, siamo andati solo avanti con le nostre forze anche perché abbiamo licenziato tutti, non abbiamo a nessuno, siamo rimasti solo io e io e i quattro mure della mia azienda e nessun altro.